Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Tappeti Tappeto Tabriz Patina Video. Questi tappeti sono annodati nelle botteghe della città di Tabriz nella Persia Nord Occidentale. Sono tappeti robusti e resistenti all'usura, con vello corto e consistente. I motivi possono rappresentare un medaglione centrale attorniato da arabeschi, salici piangenti e cipressi. Un altro motivo apprezzato sono le quattro stagioni che descrivono la vita dei contadini persiani in primavera, estate, autunno e inverno. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa, 8 mm. Pelo, lana, ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.